Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il bollettino di Toscana Neve che vi accompagnerà per tutto l'inverno. A proposito di inverno possiamo dire che finalmente è arrivato sulle montagne toscane proprio nei primi giorni dell'anno a partire dal 2 gennaio. Una bella nevicata ha imbiancato le piste anche la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Il meteo annuncia ancora qualche giorno di maltempo, poi dalla prossima settimana i previsori danno temperature in forte ribasso. Tutto lascia pensare quindi che dal prossimo fine settimana, quindi con sabato 16 e domenica 17 gennaio, la stagione dello sci e della neve potrà entrare nel vivo in tutte le località. Per quanto riguarda in dettaglio il bollettino neve, alla Betone sono aperti 12 impianti e 10 piste con neve dai 20 ai 50 cm, alla Doganaccia sono aperti 3 impianti e 3 piste con neve dai 20 ai 40 cm. Neve anche al casone di Profecchia in Garfagnana dove ha aperto il campo scuola con una pista e neve dai 10 ai 30 cm. Bellissimo il paesaggio innevato sulla Miata fino a 15 cm in vetta con possibilità di fare escursioni nei boschi. Con questo è tutto, con il bollettino di Toscana Neve vi auguro una buona giornata e vi auguro piacevoli giornate sulle nostre montagne. Grazie. 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 Grazie.